Ebbene sì, quello che è successo ieri alla Camera è stato un colpo di Stato, un sovvertimento dell'Ordine Costituito. Un colpo di Stato, dicevo, se con ciò intendiamo la melassa politica e culturale che ha avvolto l'Italia nell'ultimo decennio e che la sinistra, non avendo la forza di imporre la propria visione, si augurava potesse continuare all'infinito. Dopo aver ascoltato il discorso con cui Giorgia Meloni ha chiesto la fiducia alla Camera, possiamo dire che abbiamo dopo anni cupi un governo, capace o no lo vedremo, con una identità chiara e un programma preciso che va oltre scadenze e contingenze. Un governo di destra? Beh, certo sì, ma di una destra moderna, repubblicana, occidentale ed europeista, tutte parole che da ieri escono dal limbo della retorica e iniziano a prendere forme e contenuti. Funzionerà? Ma, Giorgia Meloni lo ha detto chiaro al termine del suo intervento, due punti aperte virgolette, a volte falliremo ma non indietreggeremo e non tradiremo, chiusi virgolette, che poi la continuazione dello slogan rubato a Tolkien, con cui chiuse la campagna elettorale in piazza del popolo a Roma, che recitava, verrà il giorno della sconfitta, ma non è questo. Già, ieri è stato il giorno della vittoria su chi scommetteva sulla prima scivolata della neopremia per quello che avrebbe detto e soprattutto per ciò che avrebbe evitato di dire, vedi la voce fascismo. Invece è andata diversamente, ha parlato anche di fascismo. Stolti e illusi, non hanno letto Oscar Wilde, che diceva, date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto, chiusi virgolette. Già, anche di dire, durante una pausa del discorso più importante della sua vita all'orecchio di Salvini che le sedeva accanto, a oh, sto a morì, provata dalla tensione e quasi infastidita dai continui applausi che le facevano perdere tempo e filo. E allora noi ci adeguiamo alla lingua e diciamo, anvedi questa che forza, ma adesso anche basta con la Giorgio Mania, peraltro da lei non cercata. Oggi bis al Senato, poi la solita inevitabile lite con gli alleati per spartirsi le poltrone di sotto governo e infine speriamo, dopo tante parole, finalmente un fatto concreto, come prima pietra di un castello, il castello del buon governo delle destre, che non scordiamolo, ne sottovalutiamo, è ancora tutto, ma tutto, da costruire. Anche per oggi è tutto, appuntamento a domani a partire dall'ora 6.